salve da michele expert queste sono fave biologiche delle macchie delle coserie preparate nei barattoli un po come si fa con i fagioli quindi praticamente si mettono i vasi dopo che sono state sbollentate diciamo almeno per dieci minuti aggiungendo anche un po di sale poi il liquido servirà a riempire i vasetti ecco si mette sale che serve la cottura deve essere diciamo intorno a dieci minuti e poi vanno pastorizzati per altri dieci minuti queste si possono utilizzare perché sono già praticamente cotte si potrebbe dire diciamo a tre quarti e si possono preparare poi la pasta e quello che sapere il zuppe io risolvo le faccio sia così anche sott'olio ho provato una volta e anche sotto sotto aceto e non sotto aceto sotto questa ho dicendo e congelate ecco personalmente le congelate le regalisco sempre di più perché sono più sicuro perché insomma vederle ancora vive danno un altro effetto ma anche queste qua vi posso assicurare anche se perdono che chiaramente colore delle fave ma che sono cotte tra l'altro se non si cuocessero un po potrebbero andare a malore e a male dopo pochissimo tempo certo che in questo modo si potrebbero mantenere almeno possiamo andare in indicazione visto che non ci sono conservanti almeno diciamo così sei sette mesi ce rimetto ecco sicuramente sì